Quinta corsa, premio Piazza della Repubblica, doppio chilometro per i tre anni, 12 al vieto per il tiro numero 12 Energy Gams, con l'uno Ergovinci, Giustino Panico, due Scudo, Lucio Becchetti, tre Enoscolo, Alberto Garruto, quattro Costgan, Cesare Ferranti, cinque Eridano Di Celle, Vincenzo Castiglio, sei Exeloninda, René Legati, sette Equatorcr, Antonio Di Nardo. Questa è la prima fila, seconda fila, otto, il Diablo LL, Luigi Cuozzo, Emiro Clemar, Enrico Bellei, Emerson Griff, Dario Battistini, Elon May, Gabriele Quarnetti, Evergreen Bar, Alessandro Cocciadoro, quando mancano poco più di 100 metri allo stacco della macchina, con prudenza, Emiro Clemar, tra quelli della seconda fila, in prima fila stanno emergendo tutti i cavalli all'esterno, dalla seconda fila parte forte Evergreen Bar. Sbaglio Scudo, c'è lotta per il comando, con Enos Coll che difende la posizione, rinviene alla corda Ergo Vinci che costringe all'esterno Ghost Gun, Attacca in terza ruota Equatorcr che si è mosso velocemente per anticipare le mosse di Evergreen Bar, insiste e passa Equatorcr dopo 500 metri di corsa, ma al suo esterno gravita deciso Evergreen Bar. Equatorcr è leader Evergreen Bar che attacca deciso, insiste e tende a passare al comando dopo 600 metri violenti, 43 e 6 e Evergreen Bar partiva in seconda fila, lo segue Equatorcr, terza posizione per Enos Coll a precedere l'uno di Ergo Vinci. E' rimasto all'esterno Ghost Gun, lungo la corda c'è il Diablo LL e poi ancora Exelon Indal e tutti gli altri chiusi da Emiro Clemar. Nel frattempo primo chilometro addirittura in uno 12 e 8 per Evergreen Bar e ci sono da fare ancora 900 metri di corsa, Equatorcr nella sua scia, davanti sempre a Enos Coll, ovviamente con questa andatura molto difficile risalire. Prova ora a farlo in terza e quarta ruota Eridano Di Celle che sicuramente non teme la distanza e il ritmo ne esalta la progressione finale, sposta dalla terza posizione Enos Coll quando mancano 600 metri al traguardo, l'ultimo quarto più lento in 30 e mezzo con Enos Coll che va all'attacco di Evergreen Bar che sembra aver speso il meglio. Sta passando Enos Coll ma lo sta inseguendo molto bene Eridano Di Celle e poi dal gruppo migliora dalla retroguardia Emiro Clemar, Evergreen Bar che cerca di riprendersi sotto il pungolo di Enos Coll. Eridano Di Celle per ora è in terza posizione, Enos Coll che insiste e tende a passare su Evergreen Bar e poi Eridano Di Celle, gran finisce a centro pista di Emiro Clemar che sta risalendo a grandi folate, deve andare in caccia di Enos Coll. Poi Eridano Di Celle, poi Eridano Di Celle, poi Eridano Di Celle, nel finale sono tutti stanchi, Emiro Clemar ed Enrico Bellei per il doppio davanti a Enos Coll e al terzo posto il Diablo LL, quarto a contatto anche Eridano Di Celle. Eridano Di Celle, ovviamente la chiusa più lenta in 45.8 per i 600 finali, sul mio cronometro 2.29.8 per i 2.000 metri, media intorno all'1.14.7 per la vittoria di Emiro Clemar, Enrico Bellei al doppio in giornata, il training è quello di Gasparilo Verdi, i colori della signora Maria Vinci Guerra per il figlio di Varen e Vanessa Clemar che a fil di palo stampa un ottimo Enos Coll con il Diablo LL al terzo posto dovrebbe essere 9.38 l'arrivo ufficioso della quinta di Capanelle. Grazie. Grazie a tutti.